Un anno pieno di sfide non solo Milano e Lazio ma anche Marina Sbardella contro Luca Giurato Vediamo chi ha vinto, entrino i concorrenti, la Sbardella campionessa in carica Nel 98 aveva strapazzato Betello e Galeazzi Beh, nuovo sfidante quindi E' il Milan che esce con le osse rosse Ah, brava, brava, brava 1-0 ben fatto direi Balla al centro e vediamo come va Eh Luca, subito la parola alla mia cara Callega Roberta Eh beh, ed è pareggio Sì, in suplex così Semplice Per la combinata Beverly Creek in Colorado Primo posto per lo Sbuzz Per lo Sbuzz Ah, lo Sbuzz è per lo Svizzero Sono cose facili finora Anche per stamani la nostra rassegna stanta Ragione di Gesù Cazzo Ci comincia a mettere della fantasia Vai, vai Il giornale di Milano sceglie di aprire su questo argomento E titola le manovre di Scalfalo Chi? E' passi in vantaggio Le manovre di Scalfalo Come vuol? Quanto doppietta 4-2, chi lo piglia più? Vediamo, vediamo la sbardellona Andiamo a allegrarci un po' con le evoluzioni dei funamboli Sui pattini a rotelli Nel rostro Roller Time Ma che bravo Però sei troppo bravo Quattro pari Ha comprato dei libri Ha cercato di pagare E la cartetta di credito non funzionava Bravo, bravo Cristian Zieg è espulso ad Empoli Per essersi tolto la maglia Dopo aver realizzato il gol del pregio Il milagista è stato squalificato Il milagista Un po' raggista e un po' milanista La procura di Lilla ha inviato un avviso di garanzia a Richard Van Kerk Varenk, scusate Neanche, si chiama Varenk Ma valla a spiegare a Sbardella che è in vantaggio per 7-5 Certo, io vorrei che lei si definisse davanti ai nostri telespettatori e telespettatrosi Ancora indietro Però questo è un bel gol Abbiamo detto del nazionale maggiore Che sarà in campo Sabano a Copenaghen Sabano Siamo in grado di darvi le prime interviste a Caldeo Al microfono di Enzo 9-6 Il gol di Vieri Comunque la Lazio Lancia la volata Scoletto Scoletto Certo Infatti Lo sappiamo tutti come finita Sergio Zavoli C'era una volta la prima repubblica One's a naponatine in America One's a naponatine in America Si permette il lusso dell'inglese Un fin di leone Facciamo la Coppa Itamia Vediamo Coppa Itamia Siamo a 19 Brava Marina Ortega della Fiorentina Ortega della Sampdoria Simone Inzaghi del Piacenza Olive e Hillary Chi? Scusate Hilario del Perugia Perché li ha confusi Ma non si sa 12-19 è dura Ma l'idea che possa essere più biavo Bianello Biavo Bianello Una doppietta Biavo Bianello Scusa Che possa essere Nessuno lo ha capito La maggioranza deve partire con il suo candidato La maggioranza che lo abbia eletto Giazzi della Cariezza Giazzi della Cariezza Ma cos'è? Un laghetto alpino Doppietta al novantesimo Grande Giurato Campione 99 Luca Giurato Riesce a sconfiggere Marina Sbarnia Non era facile